Benvenuti, ben ritrovati a un nuovo appuntamento con Focus Periferie, qui al mio fianco Walter Carubini, consulta Periferie Milano. Buongiorno Walter. Buongiorno, ben ritrovati a questa che è la 184esima puntata di Focus Periferie, una lunga galoppata, galoppata insomma anche un trottare. Ne stavamo parlando poi a fuori, dal 2017 che andiamo avanti, giusto? Nel 2017 con un pochettino Covid, non Covid, però abbiamo mantenuto sicuramente una continuità. Chi ci ha portato oggi Walter? Chi è che è in studio con noi oggi? Rimaniamo sempre in quello che è l'ambito del centenario degli antichi comuni milanesi e quindi anche qual è il lascito di questo centenario degli antichi comuni milanesi. Quindi qui abbiamo oggi ospite Silvia Fossati che è il presidente del municipio 7. Municipio 7. Municipio 7 che, traguardandola quello che è il territorio degli antichi comuni milanesi, ha il suo cuore che è Baggio. Baggio, sì. E poi anche una fetta di quello che era l'antico comune di Trenno e Uniti. Eh sì, perché la zona di Quattro Cagnino era appunto quello di Trenno e Uniti. Quindi abbiamo ancora le due antiche sedi, una in Piazza Stovane che è appunto l'antica sede del comune di Baggio e poi sulla via Novara abbiamo l'antica sede del comune di Trenno e Uniti che sono ancora edifici esistenti. Oh, chi troppo e chi niente. Cioè il municipio 7 ha due sedi dei vecchi comuni e il municipio 8 non ce l'ha più adesso. Ecco, adesso si tratta di capire qual è questa eredità di questi municipi a cento anni, a cento anni proprio dal fatto che abbiamo tolto. Buongiorno Presidente, allora, buongiorno e ben ritrovata. Buongiorno a tutti e due, buongiorno ai radioascoltatori o... Sì, ormai non si capisce più niente. Radio, webascoltatori, videoascoltatori. A chi ci ascolta. A chi ci vuole, a chi ci vede, a chi ci ascolta. Va benissimo così. Giustamente diceva appunto Walter, il municipio 7 è riconducibile a un'area molto ampia, nel senso che appunto, popolazione più o meno, 160, 170? 170 e qualcosa. 170 mila abitanti, un territorio che va appunto dalla periferia di Milano come tutti gli altri. Dalla tangenziale che il nostro confine è verso il settimo. Attenzione che c'è una piccola appendice oltra tangenziale, ricordiamo. Sì, certo, piccolina, dobbiamo... Muggiano e Assiano. Muggiano e Assiano, se poi dopo ci tirano la giacchetta. Però infatti, diciamo, dalla tangenziale fino appunto alla cerchia interna, passando appunto dal vecchio comune di Baggio, cioè anzi partendo, diciamo, con il cuore lì, diciamo. Non ce ne vogliono gli altri invitanti del municipio 7. Ma i patici dicono sempre che noi siamo bagiocentrici, che il municipio 7, perché personalmente cerco di estendere da Muggiano a questo punto, da oltre la tangenziale a quasi Piazzale Baracca, le attività o le attenzioni. Però devo dire che, non per difendere la Presidente, però non è facile non essere bagiocentrico quando si ha una storia appunto centenaria e ben più come quella di Baggio. E la sede è a Baggio, nel vecchio monastero, per cui è anche fisicamente difficile non impattare su Baggio. Uno dei temi che Walter porta spesso, volentieri, qui al tavolo, è quello della centralità o meno di una città come Milano, che nasceva, giusto Walter, poi correggimi se sbaglio, amministrando 9 km quadrati, giusto, era così? Meno di 9 km quadrati fino al 1873. Ok, quindi Palazzo Marino, 9 km quadrati, ad arrivare oggi a 181 km quadrati, ok? E quindi sembra quasi normale dire, beh, ma uno da Palazzo Marino come fa a governare tutta una città così immensa? Beh, potrebbero essere esempio i municipi, ma cosa manca ancora per far sì che questi municipi ritornino un po' ad essere, o che diventino invece magari, una sorta quasi di nuova emanazione dei vecchi e degli antichi comuni sul territorio? Mancano un po' di cose, diciamo. Sicuramente non mancano tutto ciò che è la parte burocratica e di questi ne abbiamo più che a sufficienza. Quello che manca è una indipendenza e la possibilità di costruire continuamente quelli che adesso si usano chiamare i tavoli, ma è effettivamente lavorare in modo trasversale. Cioè noi dobbiamo pensare che siamo i nove municipi e le varie direzioni centrali sono come una matrice. Abbiamo nell'asse verticale tutte le direzioni e gli assessorati dell'amministrazione centrale, nell'asse orizzontale tutti i municipi. Ovviamente uno alla volta in questo caso, dove la loro condizione non deve essere quella di essere ospite a un tavolo quando c'è una problematica che coinvolge una, due o tre direzioni, ma essere quelli che tra virgolette lo chiamano. Cioè io municipio chiamo direzione sicurezza, direzione mobilità e direzione urbanistica per affrontare questo problema. Il problema si affronta insieme, è diciamo naturale che gli impatti grossi sulla città vengano gestiti, lo stadio non lo gestisce il municipio 7, va bene, possiamo anche avere manie di grandezza, ma lo stadio non lo gestisce il municipio 7. Però la mobilità in generale sugli interventi che servono dalla rotonda ad altre situazioni, a magari ripristinare i posteggi di 3,90. Magari, magari. Allora è ovvio che se io devo parlare con ATM, ho dei problemi nel mio municipio, ho un po' impatto sulla mobilità generale e quindi a questo punto c'è il discorso, lo scambio. Ma su molte altre cose non c'è bisogno che l'amministrazione centrale abbia il pallino in mano. Lo può benissimo avere il municipio e questo, tra virgolette, non costa dal punto di vista delle risorse e delle finanze. Ecco, ma questo è un tema invece che spesso a volte mi hai tirato fuori, diciamo, ma è un costo, dovremmo rivedere tutto il personale del Comune di Milano. Ci fanno degli spostamenti, voglio dire. Non è che a parità di lavoro... Hai trovato un'alleata nella tua battaglia. Se uno è attento al territorio, alla gestione del territorio, un presidente di municipio è chiamato a fare che cosa? Ma anche dagli elettori. Ah, sì, giusto. Tutti dicono, ma il municipio non fa questo, perché nessuno appunto chiede le grandi strategie che devono avere un'ottica più che metropolitana, per certi aspetti. Ti mai si penserebbe che il municipio 7 dovrebbe pensare sull'allargamento o meno della tangenziale ovest di Milano, ad esempio. Nessuno penserebbe una cosa del genere. Ci sono delle questioni infrastrutturali che sicuramente hanno una dimensione, ma oltre che cittadina. O il welfare cittadino. Quello che invece si chiede è la gestione ordinaria, perché noi, ma questo lo diceva anche qualcuno tempo dietro, siamo più appassionati alle inaugurazioni piuttosto che alle manutenzioni. E quindi si fa una cosa e poi chi la gestisce? Oppure si abbandona un certo tipo di servizio in un determinato edificio e poi quell'edificio rimane terra di nessuno e cioè generalmente rimane il degrado. Allora, chi è che si fa carico di questo territorio? Ecco, noi abbiamo una struttura. Per cui, qual è l'ascito di questo centenario degli antichi comuni milanesi? Il centenario degli antichi comuni milanesi ha evidenziato, in una, diciamo così, non conoscenza generalizzata, anche perché la storia di Milano non è didatticamente insegnata e quindi la si impara sul campo. Quindi, ritornando a noi, se uno è attento al territorio, si rende conto che c'è la necessità di avere una visione e una gestione complessiva del territorio. Ma, non è che sia un riscontro empirico. Chi aveva introdotto il decentramento, quindi il decentramento da noi, questo tentativo di restituire l'amministrazione vicino al territorio in una città, 1968-69, 68, come fare? L'introduzione del decentramento con l'istituzione dei 20 consigli di zona. I 20 consigli di zona, che qui abbiamo un opuscolo, possiamo dire, dell'allora vice sindaco del comune di Milano, ma soprattutto assessore del decentramento Andrea Borruso, che fu un po' il conduttore di questa introduzione. Che cosa diceva sostanzialmente? Diceva, proprio tre righe, è una riflessione del 1975, quindi abbastanza interessante. E nella sostanza, che cos'è che diceva? Diceva che, diciamo così, in altri termini, si configura qui, mediante i consigli di zona, il governo urbano come un sistema politico policentrico. Cioè, il consiglio di zona, nell'ambito di un sistema appunto policentrico, e quindi il comune di Milano nel suo complesso, c'è qualcuno che vuole fare tanti piccoli comuni. Diciamo che noi abbiamo una visione internazionale, pensiamo a Milano come città internazionale. Con chi si confronta? Noi abbiamo 1.400.000 residenti. Si confronta con città che hanno 20 milioni di residenti. Per cui questo è il confronto che dobbiamo vedere, se non vogliamo essere autoriferiti, e allora guardiamo il nostro orto. Però dobbiamo vedere il nostro orto, anche alla luce, quello che si muove su questo benedetto pianeta. Soprattutto io penso che questo, 1.400.000 abitanti, se parliamo già di città metropolitana, arriviamo a 3 milioni e passa, cioè nel senso siamo comunque una città molto più ampia di quello che forse a volte pensiamo. E una policentricità che in alcuni casi c'è appunto, nella città metropolitana immagino i vari comuni che sono indipendenti e possono operare per i fatti loro, più o meno, senza dover andare a cercare una direzione centrale, e invece i municipi che invece si ritrovano con popolazioni dieci volte. Io penso al comune di Cusago, che è un comune confinante con noi. Allora, se io penso al sindaco di Cusago, agli assessori di Cusago, adesso non mi ricordo quanti abitanti ha, ma qualche migliaio, e penso al nostro municipio... È una tradizione, credo, se non ricordo male. Sì, mi sembra di sì. E anche il settimo milanese, quindi i nostri due comuni confinanti. Il settimo fa 21.000 abitanti. Ecco, e Cusago penso che non arrivi a... arriverà a 5.000, ma forse. Sì, sotto i 15.000, sicuro. Se io penso alle possibilità, ai poteri, in senso positivo del termine, ovviamente, quindi alle possibilità che ha il sindaco di Cusago e alle non possibilità che ha il presidente o la presidente del municipio 7 o del municipio 8, parliamo solo di questi confinanti, c'è da mettersi le mani nei capelli. Cioè, tenendo conto che comunque, quando si parlava prima di risorse, cioè, all'interno del bilancio del comune, queste risorse vengono spese. Non è che se io dico, datemi una parte di bilancio che gestisco io, che gestiamo noi municipio, con le nostre priorità, senza dover andare ogni volta a, tra virgolette, chiedere, per favore, possiamo fare questo, mettetelo nelle priorità del comune di Milano, eccetera, quelle risorse vengono comunque spese, quindi non è vero che si chiedono più risorse. Magari può spuntare un per cento in più, un due per cento in più, ma, come per il verde, io ho un budget per il verde, decidiamo noi, in consiglio, in municipio, quali sono le nostre priorità, all'interno di quel budget. Se poi capita un evento eccezionale, 25 di luglio dell'anno scorso, con tutti i parchi, con grossi problemi, si fa un discorso comunale, ma, per la mobilità potrebbe essere la stessa cosa, per gli interventi su, piccoli interventi di urbanistica, cioè, ripeto, diciamo che non stiamo parlando di quartiere, cioè, non è che stiamo parlando di solo baggio. Cioè, partiamo da una città come Brescia, ecco, cioè, voglio dire, non è proprio, per non togliere niente a nessuno, il sindaco di Cusago, ma lasciamo perdere il sindaco di Cusago, il sindaco di Chiesa Valmalenco, oppure di Caspoggio, perché conosco bene a Valmalenco, 1500 abitanti, tra me, lui, cioè, lui ha un potere enorme, cioè, ha la possibilità di incidere realmente sulla vita dei cittadini, a me non interessa il potere, a noi non interessa il potere, ci interessa risolvere quei problemi, potere operativo, diciamo, esatto, quotidiani, nei confronti dei quali noi ci imbattiamo costantemente. E quindi, c'era una frase che ha detto prima, anzi, che ho letto da qualche parte, che diceva Walter, sì, che dice, municipi vuoti a perdere, no, per me sono vuoti a rendere, se andiamo avanti così, perché, cosa ce ne facciamo? C'è il rischio appunto di avere qualcosa di cui non ci facciamo assolutamente niente, non ci servono. Le idee però ci sarebbero, Walter, anche questo periferimento, ha fatto spesso varie proposte, su come dovrebbe, prima parlava di una matrice, la Presidente, che spesso tu invece parli di, organo e canne d'organo, ma il termine matrice va abbastanza bene, nel senso che la matrice però, posso dire una cosa, la matrice, la matrice, l'ha conquistato, perché ha detto che, un nostro ospite è qualcosa che va bene, non succede quasi mai, posso dirlo, no, perché, dovrebbe essere una matrice, ma non è una matrice, perché, perché appunto, essendo la nostra organizzazione, ereditata, per competenze separate, come dice bene, ha fotografato bene il Professor Balducci, il Professor Balducci, che è stato anche prorettore del Politecnico, ma anche per un periodo, abbastanza breve, però significativo, assessore all'urbanistica del Comune di Milano, e quindi che cos'è che ha riscontrato? Prima l'aveva riscontrato dall'esterno, poi lavorando all'interno dell'amministrazione, che è fatta di competenze separate, e quindi tutto quel ragionamento, facciamo sistema, rete, il primo che non lo fa, ma non è una prerogativa del Comune di Milano, il primo che non lo fa esattamente è il Comune di Milano, con che cosa? Con tutte le decine di servizi e funzioni che ha sul territorio, perché noi non dobbiamo pensare che il Comune di Milano è abbarbicato a Palazzo Marino. Eh, vai, vai, mi spiega bene questa cosa, perché la spiega molto bene. Cioè, noi abbiamo le direzioni centrali, e poi abbiamo numerosi servizi che sono sul territorio, abbiamo l'anagrafe, i servizi sociali, che vanno ben oltre, poi le nuove sedi di municipi, cioè sono sparse tutta la città. Ci sono dappertutto, quindi noi possiamo pensare, tra l'uno e l'altro, di avere tra 900 e 1000 dipendenti comunali che lavorano tutti i giorni su un'area del municipio. Abbiamo circa 14.000 dipendenti, per stare solamente dipendenti comunali, poi ci sono le partecipate, l'AMS, la TN e quant'altro. Quindi sono dei volumi significativi e hanno un capo, la direzione centrale, e poi hanno un riferimento sul territorio. Qual è il problema? È che sul territorio, e qui l'effetto matrice da questo punto di vista, e però sono tutti frastagliati, quindi non collaborano tra di loro, e allora che cos'è che ci vuole? Esattamente che invece trovino qualcuno che li fa collaborare tra di loro. Chi è quel qualcuno? Una volta c'era il comune e il sindaco che li metteva tutti quanti assieme e governava quel territorio, perché il problema del territorio è quello del prendersi cura del territorio e degli abitanti che sono sopra naturalmente. Allora, qui è possibile avere, senza modificare quella che è la struttura organizzativa attuale, perché molti dicono ah ma si spacchettano le direzioni centrali, si fanno tanti centrini sul territorio. No, le direzioni centrali rimangono quelle che sono. Ma bisogna ricomporre, riconnettere tutte quelle attività che operano sul territorio. Allora, il municipio ha esattamente, come si diceva nel 1975, questo effetto di gestire complessivamente le attività di un territorio, le attività comunali, in una logica policentrica. Ecco, il municipio esattamente ha questo incombenza o dovrebbe avere, anzi, deve avere il lascito del centenario, esattamente, restituire l'amministrazione questa connessione da parte di chi? Abbiamo i municipi e quindi utilizziamo i municipi per fare l'effetto matrice e cioè ricomporre questa frammentazione territoriale che porta anche al degrado perché noi quando abbandoniamo dal punto di vista centrale un edificio, questo si degrada, viene occupato abusivamente, sperpero di acqua, di luce, come è capitato in tantissimi luoghi oppure non lo si utilizza che è un di meno per la città. Ecco, questo qui è la fotografia che noi dobbiamo fare e dire il centro è capace di fare queste cose? No, è stato dimostrato nel corso dei decenni. Allora, al centro non si chiede un surplus ma si chiede di vedere in un'ottica complessiva della città, cioè di partire a guardare la città da che cosa? Dai confini. Perché se partiamo sempre da Piazza del Duomo arriviamo forse alla circonvallazione. Dopodiché, come hanno detto gli amministratori più avveduti, abbiamo fatto tantissimi incontri già nel millennio trascorso e quindi hanno detto se arriviamo alla cerchia della 90-91 già non è poco. Ma perché? Perché appunto una volta l'organizzazione arrivava a quanto? Arrivava alla cerchia dei bastioni. Già arrivare a 76 chilometri comincia a essere complicato. Arrivare a 181 è inarrivabile e come lo si vede con la gestione macroscopica pensiamo alle case popolari. Le case popolari teme su cui voi non avete voce in capitolo giusto ad esempio? No. Ecco, ok, scusa. Quante ce ne sono più o meno nel municipio 7 giusto? Qualche migliaia. Ok, a spagna infatti. Sia di MM cioè del comune di Milano sia di Aler. Poi non potete dire nulla. Sì, ma tra le altre cose scusa se faccio un accenno su questo noi a volte anzi spesso prima di dialogare con alcuni interlocutori grossi quindi o le partecipate o altri dobbiamo sempre fare il giochetto del triangolo cioè io parlo parlo col centro questo parla con chi ha le RMM poi torna indietro poi torna indietro con uno spreco di energie poi io dico una cosa tu ne capisci un'altra ne rifinisce un'altra ancora Sì, il telefono da Zafiri Esatto, c'è un disastro Allora, esattamente come dice la Presidente Fossati c'è un giochetto dove continuiamo a rimparlarci le cose questa si chiama la burocrazia cioè l'organizzazione noi abbiamo un'organizzazione che è ancora legata a 100 anzi a 150 anni fa per certi aspetti ecco dal punto di vista organizzativo le cose sono cambiate se si pensa di saltando con un'esemplificazione di gestire con le stesse modalità un negozio o una catena di supermercati esattamente non si riesce a farlo poi quando le cose vanno bene vanno bene ma quando le cose invece cominciano ad essere problematiche si vedono proprio l'emergere delle necessità allora qual è questo lascito il lascito è quello di fare una riflessione organizzativa non da qui ai secoli tenuto conto anche di una cosa per essere chiari per tutti noi abbiamo avuto dei tentativi di restituzione al territorio dell'amministrazione abbiamo il regolamento del decentramento del 1977 che prevedeva anche eravamo sulle case popolari anche alcune competenze da parte dell'allora consiglio di zona con l'allora IACP l'istituto autonomo delle case popolari che fine ha fatto questo regolamento del 77 è rimasto lettera morta per 20 anni poi è arrivato il regolamento del 1997 che ha cominciato però a tagliare e che fine ha fatto il regolamento del 1997 sul decentramento è rimasto lettera morta per 19 anni dopodiché nel 2016 ma non tanto per il decentramento perché c'era una logica di elezione diretta del sindaco della città metropolitana è stato fatto il regolamento dei municipi cambiamo nome abbiamo messo presidenti e anche assessori quindi cominciamo a avere degli assessori e che fine ha fatto questo regolamento del 2016 che era ancora più restrittivo da un certo punto di vista siamo al 2024 e come dicono i vari presidenti e l'hanno dimostrato anche con iniziative il municipio 9 ma anche il municipio 8 per certi aspetti è rimasto lettera morta allora se qualcuno pensa che dal centro arrivi la soluzione il centro è mirato su altri livelli appunto centrali sulla gestione del territorio non riesce nemmeno a farcela e infatti non ce l'ha fatta in tutti questi decenni per quello che oggi diciamo che il territorio è fuori controllo che non vuol dire che vada male dappertutto vuol dire che dove va bene va bene ma è di difficile controllo più che altro non si sa se si arriva o non si arriva e le risorse però ci sarebbero perché ci sono le risorse ci sono anche la struttura sulla carta perché appunto aver fatto il presidente aver fatto gli assessori aver deciso che in una certa maniera veniva costruito il municipio farebbe intendere la volontà di andare in una direzione però poi in realtà non è così è come se noi costruessimo un bellissimo box di formula 1 con tutti i meccanici poi però cambiamo le gomme la bicicletta cioè nel senso cosa abbiamo fatto a fare tutti i meccanici con tutte le gomme il contratto con la Pirelli e tutto perché se poi dopo andiamo a cambiare le gomme la bicicletta cioè è quello il problema sì devo dire la verità che questa impostazione per una gestione del territorio se seria e che abbia dei risultati molto più visibili perché la gestione del territorio c'è è mancante in molti punti per perdite di tempo per la burocrazia per carenza di risorse in generale però qualche rinforzo va dato cioè io non riesco a governare una città come Brescia con un presidente e tre assessori part time ricordiamoci perché il presidente lavora è full time troppo full time ogni tanto ma gli assessori gli assessori sono part time perché altrimenti non portano a casa il pranzo e la cena detto fuori dai denti ricordiamoci anche queste cose non è detto cioè uno diciamo nella riorganizzazione del personale potrebbe estendere anche questa tipologia prima parlavate non mi ricordo più chi del fatto delle inaugurazioni è vero e poi sui social ci dicono ma voi siete sempre a tagliare i nastri oltre le inaugurazioni noi cerchiamo di fare un lavoro di controllo perché perché se io chiedo all'amministrazione centrale alcune cose e poi non controllo o non ci sto dietro ovviamente io ho dieci cose da seguire loro ne hanno cento le mie dieci si perdono quindi c'è tutto un lavoro quello che si chiama di back office che è del tutto sconosciuto e poi mi spiace Walter ma a me la parola territorio fuori controllo non mi piace perché perché in questo momento la parola territorio fuori controllo vuol dire che nessuno lavora sul territorio viene utilizzato ovviamente dalle opposizioni nel termine più dispregiativo del termine quindi preferisco un altro termine diciamo dobbiamo ancora coniarlo però sicuramente come siamo messi adesso come municipi tutti e nove indipendentemente dal territorio e dalle difficoltà che ognuno di noi ha non riusciamo a fare tutto ciò che vorremmo fare e che la città e il municipio ci chiede e questo tra le altre cose ricordiamoci che in questo momento siamo tutti e nove più uno dalla stessa parte che non è una cosa cioè quindi le nostre critiche non sono fatte non sono alla contro non sono fatte a una controparte per uno scopo politico sono fatte con uno scopo costruttivo per riuscire a veramente avere la città a 15 minuti organizzativo esatto non ha nessun senso se io non do tra virgolette la possibilità di incidere a chi vive i 15 minuti c'è anche un'amministrazione a 15 minuti un intervento a 15 minuti ma affinando le cose più che dalla stessa parte politica dalla stessa parte partitica ma proprio per quello c'è un rilievo politico sul funzionamento della città sul funzionamento della città che l'abbiamo detto centomila volte è penalizzato sul territorio ma innanzitutto penalizza proprio chi è attivo dal punto di vista del ruolo istituzionale perché nel momento in cui io mi trovo a fare il passacarte ricordavamo appunto non c'è più otto mi raccontavi delle situazioni per cui i cittadini portano a far vedere al comune il terminal dei bus di Lampugnano che è una delle porte più importanti di entrata nella città dove arrivano centinaia di bus tutti i giorni e quella realtà lì qual è? è una situazione fuori controllo ma fuori controllo dal punto di vista il fuori controllo non è che la città va male perché se Milano è attrattiva e continua a essere attrattiva con i suoi pro e contro che tutti quanti dicono vuol dire che ha un elemento positivo ma è proprio perché vogliamo avere quell'elemento positivo e anche averlo per tutti questo elemento positivo che allora la città si deve fare carico anche delle situazioni dove non ci sono dal punto di vista dell'organizzazione amministrativa è un tema che noi dobbiamo avere chiaro partire dal sindaco protempore ma anche dai sindaci che erano prima perché tutti lamentano il tema della la burocrazia ci uccide ma dopo di che nessuno cioè dalle intenzioni diciamo così sociologico politologiche bisogna passare a quello che è l'attuazione politico-amministrativa se io vedo che questa cosa non funziona cerco di trovare il funzionamento allora è proprio questo che dal territorio ma in connessione col centro se si conosce questa realtà cioè che Milano è una città primaria ma non a livello nazionale a livello europeo e forse anche internazionale dobbiamo dare questo tipo di risvolto altrimenti chi viene dal terminal dei bus qui a Lampugliano dice ma questa qui è Milano dove mi rubano la valigia e quant'altro ecco questo qui quando si dice fuori controllo la città generalmente va bene lo dicono anche degli indicatori però ha tutta una serie di sacchi dove tu non sai bene quello che succede perché se arriva uno che vuole fare il parcheggiatore abusivo continua a fare il parcheggiatore abusivo al terminal bus di Lampugliano se vuole rubare una borsa ritorna rubare una borsa non è solo un discorso di sicurezza ma è un discorso proprio di degrado dell'ambiente o di anche potenziale siamo Milano potremmo avere un hub che potrebbe fare invidia a chiunque nel mondo e invece facciamo la fermata dell'autos quindi noi dobbiamo metterci in testa che non stiamo gestendo un negozio con le stesse modalità ma stiamo gestendo una catena di supermercati che è una cosa completamente diversa quindi bisogna responsabilizzare e tenere conto che il potere che si dà in senso positivo al territorio non è un di meno del centro perché il centro non riesce a arrivare sul territorio ma è un di più aumenta la possibilità anzi dilata questo potere per il servizio al territorio ma non solo il centro potrebbe veramente occuparsi delle problematiche che sono sovramunicipali piazza d'armi io parlo sempre del mio municipio piazza d'armi il Marchiondi lo stadio sono tutte cose che sono sovramunicipali ma sono tramite presi anche loro da questo passaggio di carte tra noi e loro che alla fine i progetti del futuro della città di Milano crollano o sono lì fermi da anni perché perché ci si deve occupare del quotidiano allora il quotidiano lasciamolo ai municipi e voi diciamo amministrazione centrale pensate al futuro della città che sarebbe la giusta lavoro di squadra perché questo si chiama lavoro di squadra ognuno con le sue prerogative e diciamo che le risorse necessarie per fare questo sarebbe uno spostamento di risorse non risorse aggiuntive ma un spostamento di responsabilità come si può fare? allora un'ipotesi anche regolamentare perché poi bisogna anche trovare la cosa è abbastanza semplice dove si dice bene tutte le funzioni presenti sul territorio continuando a mantenere la dipendenza gerarchica dalle loro direzioni però rispondono a presidente dei municipi e assessori questo allora completi il quadro matriciale dove anche il municipio riesce a fare quell'effetto di coordinamento e connessione quindi sono quattro righe ci vuole un minimo di riflessione organizzativa la consapevolezza che non si porta niente via a nessuno ma si rende più efficiente questo sistema matriciale che è una delle normali organizzazioni che hanno le imprese e quant'altro quindi bisogna anche imparare dalle altre forme di imprese in chiusura ritorniamo al centenario i milanesi non conoscono Milano ricordiamo le giornate periferie Artme che ci sono il prossimo fine settimana 14 16 di giugno e quindi sul sito periferieartme.it potete vedere una programmazione di una ventina di appuntamenti che ci fanno conoscere i vari territori attraverso i beni artistici architettonici paesaggistici e museali che ci sono sul nostro territorio in zona sotto in zona 7 possiamo andare dal Marchiondi possiamo però andare anche al cimitero di guerra del Commonwealth quindi ci sono varie realtà che non sono conosciute oppure possiamo andare a Garegnano con la certosa di Milano piuttosto che in altri posti proprio per conoscere il territorio perché appunto abbiamo questo deficit di conoscenza innanzitutto a partire dalla scuola che non ha insegnato la storia di Milano e quindi noi milanesi difficilmente conosciamo Milano chiarissimo Walter grazie mille Presidente grazie buon lavoro e il suo appello ce l'abbiamo adesso manderemo a rete unificate al sindaco alla giunta così che magari magari sì ma tutte le aziende tutte le grosse aziende hanno questa parte matriciale l'ho detto per quello perché è il mio passato cioè ci sono le direzioni centrali e poi io non devo andare a chiedere per favore di venire al tavolo del municipio alla direzione A, B, C e D dove dipendo dal singolo funzionario dal singolo dirigente dalla sua disponibilità io non devo andare a chiedere io chiedo io dico è un processo normale in un'azienda e alla fine dobbiamo anche capire che è vero che la politica non è la struttura di un'azienda prendiamo il buono delle aziende e portiamolo nella politica chiarissimo grazie mille Presidente Fossati grazie Walter noi ci vediamo la settimana prossima ancora con Focus Periferia va bene certamente grazie mille Presidente arrivederci a tutti grazie mille grazie anche a voi che ci avete seguito ci vediamo alla prossima sempre qui a presto